Allora, benvenuti in questo video queste storie finiranno sul mio canale YouTube perché le monterò tutte e diventeranno un video unico Dalla noia che mi avvolge vi ho chiesto di farmi domande e quindi io ora vi rispondo Allora, Martina dice di essere annoiata come me perché ha finito la sessione degli esami brava che hai finito Io direi di mangiarti un panino Adesso che è ora di pranzo Ha nunca duro sto pane Se no puoi leggere tu il libro o guardare i video su YouTube di Azzerotella G4an Giovanni chiede se conosco Kylie Jenner o qualcuno di famoso No, è Kylie Jenner che non conosce me Elisa dice che deve portare il suo cane dal veterinario Cara Elisa, io ho portato il mio settimana scorsa Alessia chiede se uscire o stare a casa a guardare Netflix che nevica Zia, stai a casa perché se no ti rompi una gamba e noi non vogliamo che succeda questo a te Cosimo chiede di disegnare un capo personalizzato Bellissimo Questo è molto importante Questa la faccio pagare almeno 500 euro come Gucci Sara chiede un consiglio per come trovare la voglia di alzarsi dal divano per andare in palestra Cara Sara, pensa che se non vai in palestra non ti verrà un culo di marmo come quello che avevo io due anni fa Giovanni, Giovanni Giovanni, ritornando a prima Mi sono completamente dimenticata di dire che Gianluca Vacchi era il mio vicino di casa Abitava sotto di me e Michelle Unziker invece sta di fronte a me Sara mi ha detto di spiegare in un modo semi-easy quando si usa il perfettivo e l'imperfettivo in russo Non ho capito Scusate stiamo andando un attimo in pausa Torniamo subito dopo la pubblicità Allora Stefano mi chiede quali sono le canzoni preferite di adesso e quelle di sempre Quelle di sempre Quelle di adesso Ce la faccio ascoltare Allora Stefano Avrò bruciato almeno mille calorie in quel video Alissia mi chiede se fare liceo scientifico o liceo artistico Però è troppo presto per decidere perché sei in prima media Ti sei risposta da sola? Pensaci quando sarai in terza Cecilia mi chiede qual è il mio piatto preferito Non ce l'ho Basta che sia buono Mi so forte che questo video sta diventando lungo quindi la finisco qua Grazie mille per aver guardato questo video spero vi sia piaciuto Se è così fatemelo sapere con un bel pollice all'insù Pur qua qua E' gratis E a me fa piacere E voi non costa niente Ho deciso che quindi farò una rubrica una volta a tanto Quindi se volete essere nel mio prossimo video anche voi Lasciate qualche vostra domanda nei commenti qua sotto E' basta Non so più che dire Basta Vabbè basta raga Ci vediamo nel prossimo video Arrivederci